Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che è accaduto a New York, però dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Siamo negli anni 80. Per la precisione torniamo a metà degli anni 80 e in questo periodo fare soldi non è più il sogno americano, ma è una vera e propria ossessione. Il consumismo sta dilagando e l'alta finanza aumenta la sua avidità a Wall Street. Il mercato azionario è in forte crescita, c'è il boom immobiliare, molte persone riescono ad arricchirsi e in quel periodo New York è considerata la metropoli degli eccessi. Puoi fare tutto quello che vuoi, tutto è permesso. È il 26 ottobre del 1987 e ci spostiamo da Wall Street. Ci allontaniamo di circa 100 km a nord per arrivare a Newburgh, nello stato di New York. Un addetto ad un autolavaggio si dirige verso un bidone della spazzatura per buttare via l'immondizia. E proprio lì, in quel cassonetto, nota qualcosa di strano. L'impiegato trova una valigia, una valigia che non sembra né usurata né rovinata. Quindi è strano che qualcuno l'abbia buttata via. L'uomo comunque è curioso, la prende in mano e sente che non è vuota. Quindi la tira fuori dalla spazzatura e la apre, trovandoci dentro degli oggetti alquanto particolari. C'è un coltello, una corda e degli indumenti femminili, insieme a una patente di guida. Quella patente di guida appartiene a una donna, ossia alla 44enne Diane Paiko. La situazione appare chiaramente strana, qualcosa non quadra. Cosa ci fai in quel cassonetto, quella roba? Perché qualcuno si è disfato di quegli oggetti? Ma come al solito, passettino indietro. Andiamo con ordine. Chi è esattamente Diane Paiko? Diane nasce a Whitmore, una piccola comunità di 375 persone. Sita in California. Nasce da due genitori benestanti che però pensano di non poter avere figli. Quindi per loro quella nascita è un vero e proprio miracolo. Diane è vero, nasce in California, ma cresce in Indiana, a South Bend. Diane sogna da sempre di fuggire dal Midwest. In certità di una vita più ricca, più movimentata. È una bella ragazza ambiziosa, creativa e piena di speranze per il futuro. Si laurea in lettere alla Mount Holyoke College, in Massachusetts. Infatti, Diane è un'aspirante scrittrice. E a dirla tutta, ha anche un bel talento. È solita scrivere racconti brevi che le danno grande soddisfazione e motivazione. Subito dopo la laurea, Diane parte alla volta dell'unica città all'altezza dei suoi sogni. Infatti vuole crearsi un futuro a New York. Cerca quindi di crearsi il tipo di vita che sogna da sempre. Mentre cerca di affermarsi come scrittrice, Diane trova lavoro come segretaria presso il famoso settimanale Life. In questo modo, entra in contatto con un mondo raffinato e inizia ad essere attratta dal lusso. Intanto, Diane si sposa per ben due volte. Diane è una gran bella donna, ma è anche descritta come una donna molto drammatica e bisognosa di avventure. Insomma, quando la vita per Diane diventa noiosa, lei fa qualcosa per renderla nuovamente un po' più frizzantina. Pende quindi soldi in eccesso. Oppure scappa. Scompare letteralmente per un pomeriggio senza farsi rintracciare. La donna pensa sia eccitante far preoccupare gli uomini della sua vita. Ma, per i due primi mariti della donna, quella situazione è più grande di quanto riescano a sopportare. Amano profondamente Diane, ma odiano il suo stile di vita così tanto maniacale. Ed è così che entrambi i matrimoni arrivano al capolineo. Alla soglia degli anni 80, Diane incontra un uomo che è l'impersonificazione di quel lusso che lei tanto brama. Ossia il facoltoso analista finanziario Joe Paykel. Joe è un uomo molto carismatico, riesce ad attirare le persone a sé e la coppia sta molto bene insieme, fin dall'inizio. Infatti, dopo poche settimane, la storia va già a gonfie vele. Loro sono proprio i classici opposti che si attraggono. Diane è una scrittrice, uno spirito libero e avventuroso, che però, ancora, desidera crearsi la sua carriera. Mentre Joe è un uomo già fermato. Ha un successo incredibile e per molti versi a Wall Street, Joe, detta legge. Per Diane questa situazione rappresenta una certa stabilità e un nuovo stile di vita che desidera ardentemente. Diane è una bella ragazza e ha paga l'ego di Joe. Mentre Joe, per Diane, è la risposta al suo sogno di una vita agiata. In quanto Joe Paykel è davvero un uomo potente, ricchissimo. L'uomo è un vero mago di Wall Street ed ha un grande talento per gli affari. È estremamente abile a Taratti, geniale nel capire il mercato azionario. Joe Paykel è una vera macchina da soldi e si è arricchito da solo. Ma da dove arriva questo uomo? È nato in una famiglia benestante? Ebbene, no. Joseph John Paykel, oppure Joe, come ama essere chiamato fin da bambino, nasce il 3 dicembre del 1934 e cresce in una cittadina del Massachusetts, in una famiglia operaia, che ahimè a volte fatica addirittura a portare il cibo in tavola. Non si sa molto dell'infanzia di Joe, ma a quanto pare, da ragazzo, ha ricevuto parecchie botte da suo padre, un uomo incredibilmente severo. Mentre sua madre è una donna emotivamente assente dalla sua vita ed è totalmente disinteressata dal trattamento che gli riserva suo padre. Ed è proprio per questo motivo che Joe cresce con grandi ambizioni. Fin da giovane è sicuro di voler raggiungere un obiettivo ben preciso. Ossia vuole vivere una vita migliore di quella che i suoi genitori hanno fatto vivere a lui. Joe sa che i suoi genitori conducono una vita incredibilmente triste e pensa siano così frustrati e distanti a causa dei soldi. Quindi Joe si impegna, sopporta l'ambiente familiare come può. Fino a quando arrivano gli inizi degli anni 60. Joe scopre la sua strada iniziando a lavorare come analista finanziario a Wall Street. Nel giro di 10 anni arriva a gestire beni per ben 80 milioni di dollari con una commissione del 10%. In pratica Joe guadagna una fortuna, insomma si parla anche qui di milioni di dollari. Strada facendo Joe riesce ad acquisire lo stile e la spavalleria di un grande ed influente broker di Wall Street. Joe è quel tipo di persona abituata ad ottenere tutto ciò che vuole. Per lui non ci sono limiti, visti e considerati i suoi guadagni. L'uomo si è fatto da solo e all'apice della sua carriera ed è abituato ad ottenere tutto ciò che vuole. E ora vuole Diane a suo fianco. Di certo non può comprarla, quello è sicuro. Ma Diane già è incredibilmente affascinata da Joe. Infatti Joe e Diane pochi mesi dopo essersi conosciuti convolano a nozze. Sono spiriti affini, entrambi hanno grandi ambizioni e possono permettersi uno stile di vita incredibilmente elevato per l'epoca. Possiedono un lussuoso appartamento a due piani a Greenwich Village. Hanno armadi ricolmi di abiti firmati di alta sartoria e hanno nutrito staff di domestiche e autisti. Di conseguenza i Pykel vivono una vita giata. Per loro i soldi non sono un problema. Arriviamo più o meno alla metà degli anni 80 quando la famiglia Pykel si allarga perché vengono al mondo due bambini. Claudia e Blake. Ed è proprio in questo momento che Diane sotto esplicita richiesta di Joe mette da parte le sue ambizioni, i suoi desideri. Mette da parte il sogno di diventare una scrittrice affermata per stare a casa a fare la mamma a tempo pieno. Chiaramente a Diane questa cosa non dà fastidio è convinta semplicemente che debba andare così. Pensa che sia giusto. Deve stare a casa a prendersi cura dei suoi figli. Quello è il suo compito. E per di più Diane ama profondamente i suoi figli. Per lei i suoi figli arrivano prima di tutto. Anche prima della sua carriera. Anche Joe c'è da dire che ama profondamente i suoi figli. Cerca di non fargli mancare nulla però spesso è assente da casa. Quindi diciamo che colma la sua assenza con parecchi regali. Insomma, rivizia. Ogni anno la famiglia trascorre l'estate a Damaganset, Long Island dove hanno una seconda casa. La zona è conosciuta come gli Hamptons. Ogni città ha una località di villeggiatura vicina dove le persone facoltose vanno a rilassarsi. E gli Hamptons sono perfetti per questo fine. Ormai sono passati anni dal matrimonio. Precisamente nove. E durante tutti questi anni Joe ha passato molto tempo fuori con i suoi colleghi a bere. Oppure è trascorso continuamente lunghe notti in ufficio. Ormai siamo alla fine degli anni Ottanta. E Diane inizia ad essere sempre più irrequieta. Non le basta più fare solo la casalinga. Per Diane lasciare soli i bambini e quindi non occuparsene in prima persona di certo non è facile. Ma vuole riprendere in mano la sua carriera da scrittrice. Trova lavoro come segretaria per Harper's Magazine una rivista mensile di letteratura, politica, cultura finanziaria ed arte. E in effetti Diane con questo nuovo lavoro rifiorisce. Finalmente Diane è soddisfatta. È una donna instancabile, intelligente dedita al suo lavoro. Quello che ha la famiglia Paykel sono due carriere importanti, due figli e due case. Insomma, la famiglia è il classico quadretto della coppia perfetta dell'epoca. O almeno così sembra. I loro vicini però sono consapevoli che molto spesso partono diverse urla da quella bella villa. I due pare che tra le mure di casa non siano poi così tanto in sintonia. Ma appena escono ecco che tutto cambia. Ritornano ad essere la classica famiglia del murino bianco. All'epoca il sogno che molte donne coltivano è quello della famiglia perfetta. Del lieto fine. La frase e vissero tutti felici e contenti per molte donne è un vero e proprio sogno. E in effetti dall'esterno la famiglia Paykel sembra tale. A volte riticano è vero, ma è anche vero che ci sono due belle case, due splendidi figli. All'esterno appare davvero tutto estremamente perfetto. Forse è fin troppo. All'interno però la situazione è ben diversa. Non c'è un vissero felici e contenti. Non c'è più né la sintonia, né l'armonia di nove anni prima. Come se non bastasse ecco che arriva il 19 ottobre del 1987. Ossia il lunedì nero. Il mercato azionario precipita perdendo più di 500 punti. Quello è il peggior crollo della borsa dai tempi della grande depressione. E Wall Street è nel panico. È terribile. Proprio durante quel giorno alcune persone scelgono di buttarsi giù dalla finestra. Altri non lo fanno, ma sono consapevoli che la loro vita è rovinata. Tutti gli operatori con il crollo del mercato azionario iniziano a perdere una valanga di soldi. Propri e dei loro clienti. È così che lo stile di vita dell'epoca opulente e suntuoso subisce una brusca frenata. E anche Joe di certo non è indene da questa situazione. Infatti da un giorno all'altro perde una montagna di soldi. Subisce una vera e propria batosta finanziaria. È così che Joe e Diane decidono di mettere in vendita il loro bene più prezioso. La loro villa negli Hamptons. Poco dopo Diane ha una crisi di pianto lavoro. E le sue colleghe ne rimangono stupefatte in quanto la donna non ha mai mostrato chissà quali emozioni sul posto di lavoro. Diane è vista come una donna molto ironica ha un vivace umorismo è sempre di buon umore e infine ha un sorriso meraviglioso. Quindi le sue colleghe rimangono interdette da questa sua crisi di pianto. Una sua collega però si avvicina si chiama Anne la rincuora prova a calmarla le dice di asciugarsi le lacrime e di tirarsi su. È così che Diane alza il viso si asciuga le lacrime e in una frazione di secondo si ricompone sembra quasi che non abbia neanche mai pianto poi dice sicura beh questo weekend andrò ad Amagansett è venerdì 23 ottobre 1987 in effetti Diane quel weekend deve andare negli Hamptons per l'ultima volta per incontrare Joe e aiutarlo a preparare la casa per la vendita. Tutto normale in ogni caso quello è un impegno che Diane deve rispettare in quanto come già vi ho detto col crollo della borsa Joe ha ricevuto una vera e propria batosta finanziaria hanno bisogno di soldi. arriva quindi lunedì 26 ottobre 1987 Diane dovrebbe rientrare in ufficio ma la donna non si vede la sua collega Anne intuisce che ci sia qualcosa che non vada Diane non ha mai saltato il lavoro senza chiamare per avvisare della sua assenza così Anne che non è affatto tranquilla si guarda intorno e nota l'agenda di Diane è da lì che inizia la ferra la apre e inizia a leggere dei numeri di telefono inizia ad effettuare chiamate un po' a caso per capire se qualcuno abbia visto Diane dopo venerdì sera la donna fa un muco nell'acqua nessuno sa niente poi però in ufficio arriva un'altra chiamata e ad effettuare quella chiamata è proprio Joe il marito di Diane anche lui la sta cercando l'uomo chiama più volte in ufficio per sapere se la moglie sia arrivata ma le risposte sono tutte negative quindi l'uomo è agitato sconvolto preoccupato dove può essere finita sua moglie Anne la collega di Diane decide di fare il primo passo e contatta la polizia a ricevere la telefonata il detective Bill Glynn ma la storia di Anne al detective non sembra così strana penso che la donna che ha chiamato Anne stia esagerando forse la collega si è presa una giornata libera senza preavviso forse ha dovuto trattenersi negli Antons un giorno in più Anne però al telefono svela qualcosa al detective qualcosa che non sa praticamente nessuno a parte lei ma quindi qual è questo segreto così tanto importante? Anne dice al detective Bill Glynn che Diane ha chiesto il divorzio poco tempo prima Diane ha mantenuto l'apparenza di una vita perfetta per anni ma Anne svela al detective che in realtà il matrimonio tra Diane e Joe è in crisi col tempo infatti il loro matrimonio ha iniziato un po' a incrinarsi si sono create delle tensioni non indifferenti in casa litigano urlano insomma il quadretto della famigliaggiata americana ormai è davvero irreale non esiste praticamente più non esiste più in casa e talvolta anche fuori casa e Diane è certa di una cosa non vuole che Joe ottenga l'affidamento dei figli nonostante questa rivelazione il detective Bill Glynn non si scompone più di tanto si limita a dire ad Anne al telefono ma su via lo sa che le coppie possono litigare magari Diane si è allontanata proprio per questo vedrà quando gli animi si saranno calmati tornerà sicuramente Bill quindi termina la chiamata con Anne ma rimane un po' lì a riflettere anche se con Anne ha minimizzato anche lui sente ci sia qualcosa che non vada quindi il detective Bill chiama direttamente Joe Peichel il detective alza il telefono chiama l'uomo e gli chiede se può andare da lui col fine di raccogliere alcune informazioni Joe non ha alcun problema accetta però proprio in quel momento accade una cosa strana appena Bill chiude la chiamata un'altra detective seduta ad un'altra scrivania chiede in modo generale qualcuno sa di una certa Peichel? Bill si fa avanti e le dice sì in realtà ho appena parlato con suo marito perché? la detective risponde beh mi hanno appena chiamato da Newburgh qualcuno ha trovato il portafoglio di Diane Peichel nel cassonetto di un autolavaggio quello è l'operaio che per l'appunto ha notato quella valigia e aprendola si è ritrovato davanti degli oggetti davvero strani ecco perché quell'uomo chiama subito la polizia a questo punto Bill ha una netta sensazione pensa che a Diane sia accaduto qualcosa di brutto quando Bill Glynn ispeziona la villa Greenwich Village informa immediatamente Joe di aver ritrovato un portafoglio da donna in casa però quel portafoglio è totalmente vuoto e a dirla tutta sembra anche sia nuovo il detective quindi guarda il portafoglio va da Joe ma non vuole fargli notare che il portafoglio sia nuovo o vuoto vuole solo vedere la sua reazione quindi lo mostra semplicemente Joe che è in casa alla vista di quel portafoglio appare visibilmente preoccupato viene però naturale pensare al perché non si è riuscito lui a trovare quel portafoglio in casa sua forse la casa era troppo grande ma soprattutto perché non lo prende in mano quel portafoglio perché non lo osserva non lo apre non si è certa neanche che quel portafoglio sia effettivamente quello di sua moglie e questo appare strano Bill quindi va in salotto dove Joe è seduto sul divano si siede anche lui e gli chiede che cosa è successo a Diane Joe Joe racconta a detective che lui e i suoi figli sono tornati lunedì mattina dagli Hamptons senza Diane in quanto quest'ultima si è allontanata da casa venerdì sera infuriata a seguito di un litigio è da quel momento che non si è più fatta viva il detective Bill quindi chiede a Joe il motivo del litigio e quest'ultimo rivela che ha trovato sotto il letto un preservativo non suo ha sempre sospettato che la moglie lo tradisse e ora la prova è lì sotto i suoi occhi la marca dei preservativi che usa Joe di solito è diversa Bill nota che più Joe racconta la sua versione dei fatti più si agita ma non può evitare di fargli delle domande quindi gli chiede e dopo cos'è successo Joe? Joe risponde è successo ciò che accade di solito abbiamo iniziato a discutere ci siamo insultate a vicenda e lei poi se n'è andata poi continua a raccontare al detective che una volta rimasto solo a casa si è messo a dormire ora è chiaro che ognuno reagisce a modo suo alla scoperta di un tradimento ma pare assurdo che Joe dopo la sfuriata avuta con sua moglie si sia messo a dormire come se nulla fosse eppure Joe sostiene che in quel momento era molto stanco la tensione in casa era arrivata alle stelle e quindi si è messo a letto e si è addormentato subito il mattino dopo al suo risveglio non trova Diane in casa e a questo punto inizia seriamente a preoccuparsi vuole andarla a cercare ma non può di certo lasciare da soli a casa i suoi figli di conseguenza ricarica in macchina e inizia a cercare nelle strade lì vicino senza successo secondo Joe la storia è abbastanza chiara e lineare Diane ha abbandonato la sua famiglia per scappare con il suo amante un amante che Joe non ha mai né visto né sentito nominare né anche per sbaglio in ogni caso il detective non trova Joe sospettoso anche perché quest'ultimo si offre di aiutare la polizia al meglio possibile per le ricerche di sua moglie inoltre autorizza gli investigatori a perquisire la sua casa negli Hamptons e in effetti gli inquirenti trovano esattamente quello che ha descritto Joe c'è un preservativo sotto il letto e quello conferma la storia di Joe io però qui sono rimasta il quanto interdetta devo ammetterlo analizziamo un attimo i fatti venerdì notte scopri sotto il letto della camera un preservativo non tuo litighi con tua moglie per questo accusandola di tradirti e lasci quel preservativo schifido sotto il letto per i restanti tre giorni per poi tornare a casa bello tranquillo a me pare assurdo ditemi voi se sono l'unica a pensarla così o se anche a voi questo comportamento appare un po' sospettoso a me sembra che Joe abbia raccontato quella versione al detective in quanto quella versione era già stata decisa e preimpostata poi però la situazione cambia perché le autorità trovano qualcosa che li allarma ci sono delle tracce di sangue sul pavimento della cucina i detective pensano immediatamente all'incolumità di Diane nessuno ha ancora pensato all'ipotesi peggiore nessuno pensa che Diane non ci sia più ma a questo punto le autorità non sanno più che diavolo pensare Diane è stata ferita da qualcuno quando ma soprattutto da chi da suo amante segreto la polizia ha una certezza la moglie di Joe Paykel è scomparsa ma dove si è un mistiero potrebbe davvero essere scappata per sempre Joe pare approvare una teoria simile sostiene che sì se ne sarebbe potuta andare tranquillamente considerando come andava il loro matrimonio questo rende plausibile la pista di un allontanamento volontario non proprio perché quelle tracce di sangue trovate nella casa degli Hamtons fa avviare alle autorità le ricerche per trovare Diane le unità cinofile perlustrano tutta la zona alla ricerca di Diane o al limite del suo corpo hanno la sensazione se è successo qualcosa di brutto alla donna ma dopo qualche giorno i detective tornano a mani vuote negli Hamtons non c'è traccia né di Diane né del suo amante segreto la domanda a questo punto si fa sillante dove può essere andata? il detective Bill Glein scopre una possibile pista infatti salta fuori che Joe ha un'altra casa di sua proprietà a Manhattan a questo punto sorge una domanda forse Diane è nascosta in quell'appartamento è lì che bisognerebbe cercarla detto fatto gli investigatori spezzonano anche quel secondo appartamento di Joe entrano in casa si guardano attorno e si rendono conto che di Diane non c'è traccia ma quell'appartamento è pieno zeppo di indumenti femminili per l'esattezza è piena di lingerie soprattutto di tagliaforte quindi i detective capiscono a colpo d'occhio che quell'intimo non può essere di Diane ma non è finita qui in quell'appartamento trovano manette giochi per fare cose a letto frostini cose trasgressive insomma quell'appartamento dimostra la doppia vita di Joe Paykel in tutto il suo splendore ed è proprio in questo momento che i detective fanno questa scoperta a quanto pare Diane non è l'unica ad avere una vita segreta un amante anche Joe ce l'ha e in effetti a Wall Street nei club per soli uomini accadeva di tutto c'erano ragazze ovunque e storie clandestine gli uomini al tempo potevano fare ciò che volevano con giovani donzelle per poi tornare a casa a fine giornata dalla moglie e quindi pare che Joe non ha nascosto qualcosa solo a Diane ma ha nascosto qualcosa anche volutamente alla polizia peraltro la lingerie trovata nell'appartamento a Manhattan è della stessa taglia di quella trovata nella valigia nel cassonetto insieme al portafoglio di Diane ma quindi quella lingerie appartiene davvero all'amante di Joe potrebbe quindi esserci una donna dietro la scomparsa di Diane il detective Bill Lynn il 27 ottobre del 1987 torna negli ultimi luoghi in cui è stata vista Diane a partire dal suo luogo di lavoro la redazione Harper's Magazine è così che il detective ed Anne la prima persona che ha chiamato la polizia si incontrano e questa donna aiuta a tracciare un profilo decisamente più completo sia di Diane che del suo matrimonio complicato Anne spiega alla polizia che i due litigavano da parecchio tempo ma negli ultimi periodi la cosa era pure peggiorata è così che Diane ha deciso di assumere il più costoso e famoso avvocato divorzista della città il matrimonio tra i due era tutt'altro che perfetto infatti Joe e Diane si lanciano insulti tremendi a vicenda ma soprattutto litigano su tutto su qualsiasi cosa anche la più stupida e con qualsiasi intendo che una volta specifica sono riuscite a litigare furiosamente solo perché Diane sbadatamente ha messo la saliera in un posto diverso dal solito Joe non l'ha quindi trovata al suo posto e ha iniziato a sbraitare peraltro si scopre molto presto anche che Joe fa una cosa alquanto strana ossia registra i litigi che ha con sua moglie e la polizia quelle registrazioni le ottiene tutte dalla prima all'ultima a quanto pare Joe non sopporta che Diane lavori e secondo lui trascura anche un po' i figli nello specifico Diane dice stai cercando di mettere i nostri figli contro di me sei tu che gli dici che non mi importa di loro quando io non sto facendo niente di male vado solo a lavorare guadagna dei soldi perché metti i nostri figli contro di me perché gli dici tutte queste cattiverie su di me Joe risponde a Diane ma io non l'ho mai fatto Diane a questo punto risponde sì che l'hai detto non l'hai mai fatto in mia presenza ma io ti ho sentito anche più volte ascoltandoti di nascosto ho dovuto dire ai miei figli che in realtà a loro madre non li odia assolutamente ma ha solo bisogno di avere un lavoro ti sembra normale? Joe continua a negare in quelle registrazioni ma Diane non si sposta di una virgola sostiene di averlo sentito con le sue dannate orecchie di conseguenza gli dice anche che è un bugiardo e un vigliacco che non riesce neanche ad affrontarle e a dirle le cose in faccia come stanno è così che iniziano a volare insulti parecchio pesanti e il tutto si conclude con Diane che manda al devolo Joe e se ne va chiudendosi la porta alle spalle molti litigi divertono su questa situazione ma Joe sostiene di non aver mai messo in cattiva luce Diane con i suoi figli giura che invece sono stati bambini ad andare da lui a fargli quella domanda gli hanno proprio chiesto papà ma per caso mamma non ci vuole bene perché non è più a casa ora ci odia Joe giura che le cose siano andate così ma Diane litigio dopo litigio si incazza ancora di più perché l'ha sentito con le sue orecchie parlare con i loro figli non se l'ha inventato questa situazione a me appara il quanto strana perché litigare così tante volte su un fatto così ben preciso perché Joe non riesce a dire la verità a sua moglie inoltre c'è anche un'altra cosa strana pare che col tempo Diane abbia semplicemente smesso di parlarne così come Joe un giorno hanno semplicemente iniziato a discutere di qualcosa altro e quella situazione è stata messa da parte Diane non se ne va perché vuole ottenere la custodia dei suoi figli ecco perché continua a sopportare la situazione poi però arriva un giorno in cui Diane trova un qualcosa che esaspera totalmente la situazione sta sistemando delle cose di suo marito e tra i suoi vestiti trova della biancheria intima da donna è l'ingerie molto bella e costosa la domanda che immediatamente si pone Diane è cosa ci fa questa roba qui perché è qui da dove arriva questa scoperta la turba non poco e reagisce istintivamente provando un'immensa rabbia per una moglie chiaramente una delle cose più terribili che possa capitare è scoprire che il proprio marito ha un'altra relazione questo è ciò che distrugge i matrimoni e sfascia le famiglie Diane ne è certa ecco perché inizia ad urlare contro Joe in un modo ben peggiore del solito gli dice non solo che è un bugiardo della peggior specie un maiale ma anche un traditore è così tanto arrabbiata che arriva a minacciarlo di morte il detective Glyn con i giorni che passano raccoglie sempre di più queste informazioni molto importanti il punto è che più informazioni raccoglie più i suoi timori aumentano forse davvero Diane è stata colpita dall'amante di Joe arriva il 28 ottobre del 1987 quando a circa 80 chilometri da New York alcuni addetti alla manutenzione stradale mentre puliscono dei canali di scolo lungo la superstrada di New York nei pressi di Newburgh trovano un oggetto avvolto in un telone già a prima vista quell'oggetto avvolto in quel telone è strano quindi si avvicinano ed è così che scoprono un corpo quello è il corpo senza vita di Diane Paykel la scientifica ben presto esamina il corpo di Diane i polsi e le caviglie sono legati da delle corde il collo presenta dei segni perché la donna è stata strangolata ma non è finita qui quella donna presenta lividi in tutto il corpo e quelli sono evidentemente dei segni di un pestaggio è così che il caso di Diane Paykel non è più un caso di una persona scomparsa bensì di omicidio ed essendo al corrente delle liti coniugali che Diane e Joe avevano avuto le indagini hanno già la strada spianata per spostarsi sul marito come principale indiziato Joe litigava con Diane spesso e volentieri era nel bel mezzo di un divorzio gli inquirenti hanno elementi sufficienti per incriminarlo è così che Joe viene arrestato e sottoposto ad interrogatorio la polizia gli spiega che deve essere perquisito come da prassi ma fin da subito si presenta un problema Joe si rifiuta categoricamente di spogliarsi non vuole togliersi i vestiti non vuole proprio sottoporsi a un'ispezione corporale inizialmente il suo tono è sicuro quel tempo arriva addirittura a supplicare le autorità ma i detective gli dicono che non può evitare la prassi è così per chiunque venga arrestato così Joe si arrende e accetta si toglie quindi la maglia la camicia i pantaloni e i detective si rendono conto che indossa sotto i vestiti dell'intimo da donna è così che il segreto di Joe viene fuori ama travestirsi da donna almeno questo è quello che al momento le autorità intuiscono il disagio nella stanza è palpabile i detective non sanno come fare per alleggerire la situazione e Joe si sente profondamente umiliato la cosa più importante in ogni caso per gli investigatori è scoprire se la sua vita segreta per caso abbia portato in qualche modo all'omicidio di Diane è così che le autorità iniziano a interrogare Joe per ore gli agenti mettono sotto torchio l'agente di borsa per avere più dettagli e alla fine l'uomo parla davvero Joe racconta che nella primavera del 1986 quindi più di un anno prima del suo omicidio Diane ha scoperto il suo segreto e quello non è un tipo di segreto facile da spiegare alla propria moglie ma non è finita qua Diane rivistando tra i cassetti trova delle foto di Joe che indossa della lingerie per Diane quella scoperta è assurda il suo pensiero si rivolge immediatamente a suo marito o almeno al suo aspetto un uomo che esce sempre di casa in giacca e cravatta oltre alle foto Diane trova anche delle videocassette che hanno sopra scritto il nome Chloe in quei video si vede chiaramente Joe Paykel travesito da donna che interpreta per l'appunto Chloe ballando in lingerie sulle note di Tina Turner per Diane quelle immagini rappresentano il tradimento più grande del loro matrimonio e sicuramente quel segreto esisteva già quando i due erano solo fidanzati la cosa fa in bestialiere Diane che quindi affronta il prima possibile Joe anche in questo caso avviene un litigio e Joe registra anche questo litigio si sente Diane che dice so tutto so della lingerie delle foto delle videocassette so che hai una vita segreta hai idea di come mi senta come puoi fare questo alla madre dei tuoi figli ora devi darmi una sfigazione Joe non dice niente se non Diane quella è la mia natura lo è sempre stata ed io non posso cambiare la mia natura Diane quindi ribatte sono furiosa e do il cuore a pezzi ci ho provato con tutte le forze tu lo sai che è così la risposta di Joe è fredda ferma risponde no non credo che tu l'abbia fatto per Joe chiaramente questa cosa è devastante la vita gli sta letteralmente crollando addosso e inoltre c'è da sottolineare che purtroppo negli anni 80 gli uomini che lavorano nell'alta finanza non indossano abiti da donna l'idea che un grande finanziere indossi abiti da donna per poi danzare sulle note di Tina Turner può portarlo letteralmente alla rovina Joe quindi è vulnerabile diventa taciturno si chiude in se stesso ed è in questo caso che Diane prende una decisione definitiva che è il divorzio aggiungendo che non vuole più avere nulla che fare con lui Diane inoltre gli dice di collaborare altrimenti parole sue ti impiccherò se non mi assecondi ecco perché Diane vuole ottenere la custodia esclusiva dei bambini considera Joe un essere spregievole inizia a pensare sia addirittura pericoloso per i bambini insomma dopo una scoperta così sconcertante Diane decide di lasciare Joe non di tentare di capire la sua natura ed è così che quelli che prima erano semplicemente eccessi di collera o rimproveri diventano liti violente Diane lo insulta in modo aggressivo e volgare inoltre lo assale nel vero senso della parola lo mette al muro gli inizia a dire che è sporco che è gay e che di sicuro ha l'AIDS continua dicendo probabilmente ce l'ho anche io ma ho troppa paura per andare a farmi il test ma sono sicura di averlo esattamente come te Joe le chiede perché pensa a quelle cose e Diane risponde beh vedi tu hai avuto un rapporto intimo di tipo omosessuale Joe però nega dice che lui con un uomo non ci è mai stato ama solo travestirsi dice anche a Diane che è ridicola non riesce neanche ad aprire un minimo la sua mentalità ecco perché ha pensato immediatamente che l'abbia tradita con altri uomini anche se non è così ma la verità è che Diane ha davvero paura e sa esattamente di cosa sta accusando suo marito purtroppo al tempo l'AIDS è considerata come la malattia dei gay perché per l'appunto si sta diffondendo nelle comunità gay visto che gli omosessuali sono quelli più a rischio averlo costituisce un marchio di infamia è considerato come sporco e peccaminoso Diane alla fine dà il colpo di grazia a Joe dicendogli chiaramente che non vuole che stia troppo vicino ai bambini in quanto ha una pessima influenza su di loro Joe dice alla polizia che Diane lo aggrediva verbalmente in continuazione è arrivata anche a dargli dello psicotico ecco perché ha deciso di registrare tutti i loro litigi Diane a questo punto lo ricatta gli dice che vuole i figli solo per lei altrimenti avrebbe raccontato il suo segreto in giro e Joe avrebbe avuto la reputazione infangata per sempre chiaramente Joe si sente minacciato anche lui ama profondamente i suoi figli vuole anche lui lottare per loro la situazione si trascina e ahimè arriva a un punto di non ritorno l'aspro conflitto tra Joe ed Diane arriva al culmine la notte del 24 ottobre del 1987 intanto la polizia in sede di interrogatorio scopre che c'è un'altra cosa di cui Joe non ha parlato un lungo graffio che si trova proprio sul suo fianco ed ora Joe è proprio pronto a buttare il sacco a raccontare tutto l'uomo dice che è vero è stato lui a far fuori Diane ma per legittima difesa quel graffio confermerebbe la sua versione della notte in cui ha ucciso Diane ma quindi con esattezza cos'è successo? Joe racconta che venerdì notte intorno al luna Diane arriva a casa loro negli Hamptons i figli dormono ma Joe la sta aspettando in piedi per tentare di chiarire un minimo e di vivere quanto meno in pace per quel weekend tra i due scoppia una lite furibonda che si fa mano a mano sempre più violenta sostiene che Diane ad un certo punto si è così tanto infuriata da impugnare un coltello da cucina per poi inseguirlo per tutta casa Joe cercando di difendersi viene appunto ferito da quel coltello stando al suo racconto lui cerca continuamente di allontanare Diane da sé ma lei continua ad avventarsi su di lui con quel coltello così Joe nel tentativo di disarmarla la prende per la gola e la strangola ma senza volerlo quindi nel tentativo di difendersi Joe ha ucciso accidentalmente Diane quella è una storia sufficiente la polizia incrimina Joe per omicidio preterintenzionale Joe chiama a difenderlo Ron Begov che entro un mese riesce ad ottenere per Joe il rilascio su cauzione è così che l'uomo torna a vivere con i suoi figli gli amici e la famiglia di Diane inoltre hanno una convinzione i bambini sono stati testimoni dell'omicidio ne sono certi quindi l'idea che Joe ne ottenga la custodia per loro era capricciante nonostante ciò il giudice sostiene che sebbene Joe sia stato accusato di omicidio non è ancora stato condannato e i bambini devono stare con un genitore siccome Diane non può prenderli in custodia Joe è la seconda scelta del giudice intanto Joe è convinto che la sua linea difensiva sia vincente e il suo processo inizia il 31 gennaio del 1989 in tribunale l'avvocato di Joe istruisce la sua difesa sostiene che quello non è un processo per lo stile di vita di Joe la situazione qui è ben diversa perché Joe ha dovuto colpire Diane per difendersi nonostante ciò la tesi dell'accusa è inoppugnabile proprio per ciò che Joe ha fatto al corpo di sua moglie dopo la sua morte l'uomo l'ha fatta fuori nella notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre la mattina dopo sabato l'uomo sale in auto e guida con i suoi figli a bordo e mentre Joe sta portando i suoi bambini dal suo amico nel bagaglieio della macchina c'è il corpo di Diane Joe prima di portare i figli dal suo amico si ferma presso un ferramenta compra dei teli una corda e altro materiale per avvolgere il corpo inoltre compra anche una grandissima quantità di ghiaccio l'uomo sta pensando a come liberarsi del corpo nel frattempo vuole ritardarne la decomposizione non sa cosa fare lascia i suoi figli dal suo amico e poi parte alla volta del Massachusetts probabilmente Joe pensa che più si allontana da New York più ha la possibilità di farla franca quindi Joe guida per chilometri è confuso non sa cosa fare poi arriva a Newburgh nello stato di New York e a questo punto decide di liberarsi del corpo e non lo fa perché ha congegnato un piano no è che sono passati ormai due giorni e deve tornare negli Hamtons per recuperare i suoi figli Joe però prima di tornare negli Hamtons passa a lavare la macchina in un autolavaggio ed è in quell'autolavaggio che si libera di una valigia con dentro il portafoglio con la patente di sua moglie delle corde un coltello e della lingerie da donna Joe in quell'autolavaggio lava la macchina con molta precisione dentro e fuori e poi torna a recuperare i suoi figli per l'accusa il comportamento di Joe è facile da spiegare non si strangola per sbaglio una persona ma soprattutto una persona normale non arriva al punto in cui è arrivato lui per poi continuare a condurre la sua vita normalmente la legittima difesa per l'accusa è solo un escamotage per sostenere una versione che potrebbe evitargli la condanna Joe Paykel ha ucciso volontariamente sua moglie Diane questo perché quest'ultima l'ha sfidato col divorzio Joe si rifiuta categoricamente di divorziare non vuole né vivere senza i suoi figli né tanto meno pagare alimento e mantenimenti dei figli a una donna che di certo lo avrebbe sostituito molto presto con un altro uomo ma soprattutto Joe è preoccupato che Diane racconti in giro che sia omosessuale ecco perché agisce uccidendo la moglie Joe sarebbe rimasto un uomo libero avrebbe ottenuto l'affidamento dei figli i soldi sarebbero rimasti tutti a lui ma soprattutto il suo segreto sarebbe stato al sicuro il 16 marzo del 1989 dopo un giorno di camera di consiglio Joe è condannato per omicidio preterintenzionale però prima di essere condannato si ammala e gli viene diagnosticato l'AIDS e infatti il 13 giugno del 1989 Joe Paykel muore a causa di complicazioni derivanti dall'AIDS alla fine le vere vittime di questo caso sono i figli di Joe e Diane che si sono ritrovati in poco tempo senza né madre né padre fortunatamente una cugina di Diane li adotta e si prende cura di entrambi Claudia e Blake hanno perso i genitori ma sono stati cresciuti da una donna che li ha amati profondamente detto questo ragazzi io spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere se conoscevate questa storia questo caso e lasciatemi pure un commento qui sotto sono curiosa di sapere cosa ne pensate detto questo io ho finito di parlare in questo video vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi grazie a tutti